Ciao a tutti! Nuovo video tutorial di make up è un make up che ho pensato per l'estate e penso sia adatto all'abbronzatura ora non guardate me che ancora non sono abbronzata però sicuramente lo userò tra una settimana quando inizierò a prendere un po' di colore è una prova che stavo facendo e secondo me è molto carina sto usando diversi prodottini nuovi e quindi mi è piaciuto e volevo mostrarvelo il trucco è questo ho usato un po' i toni, l'oro il colore tipo bronzo e secondo me è venuto molto molto carino e naturalmente come tutti i make up che faccio io sono semplicissimi non essendo una make up artist faccio dei trucchi che secondo me sono adatti a tutti e molto semplici, molto facili e semplici da riprodurre partiamo subito allora per quanto riguarda la base ho messo solo perché d'estate non mi piace usare la BB cream ma ho messo solo per le occhiaie e le imperfezioni il correttore dell'Avil color nude che mi sta piacendo tantissimo è un correttore bio e nient'altro quindi solo per le imperfezioni e le occhiaie allora parto subito col trucco occhi ho fatto una base usando questa palettina qui della nude della HM userò il colore più chiaro questo qui che è un bianco i primi due il bianco e quello a fianco che è un rosa chiaro e lo andrò a mettere con le dita su tutto l'occhio come base ora ho messo il bianco ora metterò l'altro il rosa e lo usiamo come base io spero si veda qualcosina ok fatta la base userò da questa palettina della Essence che mi sta piacendo tantissimo userò il colore pesco questo qui centrale quindi pennellino prendo il colore centrale e lo metto su tutta la palpebra mobile insistendo sulla parte finale dell'occhio qui dove c'è il condotto lacrimale molto carino questo colore lo trovo molto molto estivo solo sulla palpebra mobile ok vedete picchietto un po' e fisso il colore ok per quanto riguarda il colore che andrò a mettere adesso si tratta del numero il desert della neve cosmetics che fa parte della nuova collezione quella con il nome impronunciabile e un ombretto minerale metto un pochino nel tappino ne prendo pochissimo e vado dalla metà dell'occhio lo picchietto salgo nella piega e arrivo fino alla fine dell'occhio poi per dare un po' più di definizione sempre dalla palettina di H&M prenderò questo colore più scuro l'ultimo e vado al di sopra della piega per dare definizione ok salgo un pochino e ora naturalmente lo sfumo vado prendo questo vennellino di Kiko e inizio a sfumare i due colori insieme sfumiamo bene bene sfumiamo bene bene saliamo un pochino ok ok e ora al di sopra di questo color desert andrò a mettere sempre prendendolo da questa palettina della essence sempre lo stesso colore quello che ho usato prima il color pesco e lo andrò a picchiettare per dare più luminosità a questo colore al centro dell'occhio insistendo sull'arima interna scusate sull'interno dell'occhio la parte interna picchiettiamo bene diamo un po' di luminosità vado fino alla piega dell'occhio picchiettandolo sempre vedete? il colore risulterà più luminoso ora con un altro pennellino vado a mettere il colore più chiaro faccio un mix tra il chiaro e il pesco e lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare per dare un po' di luminosità vedete? spero si veda qualcosa con questa luce andiamo a illuminare questa zona qui e il centro vado a insistere con lo stesso pennellino prendo sempre gli stessi colori e vado a illuminare la rima inferiore esternamente qui arrivo a metà sfumate bene e l'altra metà dell'occhio fino alla fine sempre nella rima inferiore esternamente andrò a mettere il color desert della neve cosmetic arrivo su e salgo sfumo un pochino faccio salire il colore do un'altra sfumata eccoci questo è il trucco oggi per quanto riguarda ora andrò a tracciare una linea la traccio con questa matita dell'essence questo Dubois che sto adorando userò il colore marrone faccio una linea sopra l'occhio sull'occhio cerco di rimanere di tracciare una linea abbastanza sottile e poi salgo ora vado nella rima inferiore interna sempre con la matita marrone perfetto ecco vado a definire le sopracciglia con questa matita dell'essence che la sto finendo pettiniamo ecco qui il mio trucco occhi spero si veda qualcosa mascara io come al solito ne uso tre inizio con I love extreme della essence perché sapete che a me le ciglia piacciono belle lunghe e inizio con il primo vado anche sotto un pochino senza esagerare dopo di che passo al mascara vamp di Pupa e insisto sulla parte esterna con questo mascara è stupendo naturalmente mi sono macchiata capita sempre bellissimo bellissimo questo mascara e per finire l'ultimo che ho comprato questo sempre della essence con lo scolino curvo che adoro mi sta piacendo tantissimo spero di ritrovarlo perfetto questo è bellissimo questo mascara da fa proprio l'effetto ciglia finte guardate bello trucco occhi finito passiamo al blush allora vado a usare prima questo qui della essence il 10 pretty pink sfoghiamolo io salgo sempre un po' anche verso le tempie ok per dare un po' più di luminosità io sto usando questa terra la numero 2 sempre della essence che mi sta piacendo tantissimo profumare di cocco pennellone sui zizzicoli illuminiamoci un po' mi piace metterlo anche un po' qui ok labbra vedete? troppo carino questo trucco spero si riesca a vedere qualcosa per le labbra userò questo matitone della Kiko allungato in utile numero 103 disegno il contorno e poi questo è proprio un rossetto quindi lo metterò come rossetto per dare un po' più di luminosità userò questi Shine Last queste tinte questa tinta della Kiko il numero chissà non lo so non c'è scritto però è sempre un rosa che va sul... no, è un arancione molto chiaro e lo uso diciamo come luce da labbra molto carino e niente questo è il mio trucco estivo sui toni del bronzo terra e oro con tutti questi ho fatto un mix di colori da diverse palettine fatemi sapere che cosa ne pensate io lo trovo molto molto adatto per l'estate con la bronzatura lo vedo perfetto e secondo me è un trucco che può andare bene sia di giorno che di sera cambiando il rossetto la sera se mai mettete un... ma anche così con un rossetto che va sull'arancio è carino fatemi sapere che cosa ne pensate noi ci vediamo al prossimo video vi mando un bacio e a presto ciao